I turbi, prova a tenere questo pallone, c'è un rimpallo che favorisce Gervinio, non è fuori gioco, Gervinio va con il colpo di tacco, Torosidis, il suo destro, deviato ancora Torosidis, due volte, tre volte, Torosidis, e poi dal suo d'angolo, allarga Gervinio, il tocco è per lui, Gervinio, area di rigore, Gervinio può mettere dentro per destro, che porta in vantaggio alla Roma, sempre matti a destro, sempre all'Olimpico, quarto gol di campionato. Pjanic, gran palla, pallone interessante per destro, e il suo sinistro, che termina a lato, un'altra occasione per Mattia destro. Scross di Magnusson, Ugo Almeida, la piazza, e va vicino al gol del pareggio. Gervinio, buona palla per Florenzi, di prima, Florenzi, Agliardi. Questa è la migliore occasione della Roma nel secondo tempo. Batte il calcio ad angolo, Florenzi, un tiro in porta, Agliardi è costretto a metterla ancora al di là della traversa. Ancora un tiro in porta dall'altra parte, spomba di Iangambiwa, e poi la rete. 2-0, Danielo, Terossi. Roma 2, Cesena 0, Terossi. Roja Nainggolan, zona tiro per lui, carica il destro Nainggolan, Agliardi, ma che giocata di Nainggolan. Torosidis, palla per Florenzi, può crossare immediatamente, Florenzi! Ma che occasione per Pjanic, che non trova la porta. Arriva con qualche secondo d'anticipo, il fischio finale. La Roma torna a vincere dopo il pareggio a Barassi contro la Sampdoria. E 2-0 alla Cesena.